È iniziata la vendita dei biglietti per la stagione dei concerti della Primo Riccitelli, dove si possono acquistare? Si possono acquistare nella sede della Riccitelli via Nazario Sauro e naturalmente online sul sito www.primoricitelli. Però in questi giorni stiamo ancora effettuando proprio la campagna abbonamenti, quindi non solo la vendita dei biglietti ma anche la vendita e soprattutto degli abbonamenti. Sono abbonamenti ordinari, abbonamenti speciali per i giovani e giovanissimi e per tutti naturalmente gli enti convenzionati. Quest'anno inizieremo domenica prossima, il 22 di ottobre e eccezionalmente per la prima volta sperimenteremo concerti pomeridiani tutti sabato e domeniche. Questo è un qualcosa che ci è stato richiesto ai nostri vecchi abbonati, per la prima volta proviamo a realizzare questi concerti in questi orari nuovi, insomma speriamo che il pubblico condivida la nostra scelta. Ci sono agevolazioni anche per i giovani? Esatto, sì, d'altra parte la Riccitelli ha rivolto sempre un'attenzione particolare ai giovani, delle istituzioni musicali in particolare ma anche a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori della nostra città. Quindi benvengano i tanti giovani che come sempre hanno affollato sempre le nostre sale da concerto.